Siamo a Soder Tele al Democenter della Scagna con Paolo Carri, responsabile marketing di Italscagna, che ci illustra quali sono le caratteristiche principali della Scagna Streamline. La Scagna Streamline non è un restyling, vorrei dire innanzitutto, ma è la combinazione di una serie di novità volte a ridurre il consumo del veicolo, partendo da quella che è già l'ottima base del prodotto Scagna. Elenco principalmente tre aree su cui abbiamo operato, la prima è quella di motori Euro 6 con l'introduzione di propulsori di seconda generazione, abbiamo poi la catena cinematica con la standardizzazione di Scania Optic Cruise e i nuovi performance modes, le modalità di performance a cui si aggiunge la nuova modalità economy che sfrutta al massimo Scania Active Prediction. In ultima una serie di miglioramenti aerodinamici esterni alla cabina, localizzati principalmente nei deflettori sugli angoli della cabina e nel nuovo parasole superiore. E in Italia da quando questi veicoli sono ordinabili e quando arriveranno? Beh di fatto già oggi le consegne sono iniziate con il mese di luglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.